Allora, si potrebbe dire per alcuni versi che Arezzo negli ultimi anni è diventata la città delle fontane. Personalmente sono un grande amante delle fontane. Purtroppo però le fontane sono belle quando funzionano. Mary, buongiorno. Altra segnalazione ricevuta nel profilo di Facebook Il Partito delle Cicale riguardo queste fontane. A Arezzo ultimamente ne sono state costruite diverse e qui abbiamo quella in piazza di sorgimento che è stata costruita ma non è funzionante. Il problema delle fontane non funzionanti. Ripeto, le fontane personalmente a me piacciono molto. Sono quasi un elemento di richiamo all'interno di una città, all'interno di una piazza. Però purtroppo, come potete vedere dalle immagini, quando non funzionano e tutto sommato anche il loro stato di manutenzione non è il massimo, diventano una bruttura. A volte funzionano come cestino dei rifiuti, cioè ci troviamo dentro di tutti. La manutenzione non è delle migliori perché si vede che là col tempo anche la struttura subisce delle modificazioni. E il fatto di essere ferma, una fontana ferma che ha costato un sacco di soldi, cioè i cittadini vorrebbero che i soldi spesi, i soldi loro spesi, almeno fossero utilizzati per costi funzionanti. La gente si arrabbia di questo. Insomma, come avete senz'altro capito, il problema ha come sempre più facce. Da un lato una scarsa attenzione, una scarsa sensibilità per tutto ciò che è il decollo del radio d'urbano. E dall'altro invece una sensazione di fastidio per vedere che dei soldi che sono stati spesi, e spesi bene anche per strutture che hanno una loro dignità, non vengono utilizzate. E qui siamo vicino alla stazione di Arezzo, abbiamo una fontana abbastanza celebre anche perché c'è la riproduzione della chimera che è il simbolo di Arezzo. La situazione pare ancora un pochino più sconfortante rispetto a quella di piazza Risorgimento, è così Mary? Sì, proprio in completo degrado. C'è oltretutto la chimera, il nostro simbolo, il simbolo di Arezzo. Ci lamentiamo che non abbiamo quella vera qui, abbiamo le due della fontana in piazza della stazione, la cosa che dovrebbe essere presa in considerazione è tenerle almeno funzionanti per accogliere i visitatori che arrivano in città. E invece sono in questa situazione completamente chiuse e in più la zona della fontana usata come rifiuti, ci gettano i rifiuti. Ripeto, quello che vediamo qua è abbastanza sconfortante, ma questo particolarissimo giro che vi proponiamo questa sera sulle fontane di Arezzo non si chiude qua. E quello che vedrete da poco, forse da un certo punto di vista, è ancora più sconfortante. Restate con noi. Grazie a tutti. Concludiamo il nostro giro per Fontane di Arezzo. Uno scrittore austriaco una volta, illustrando il fatto che in un angolo di una stanza c'era un pianoforte coperto da un telo e non veniva utilizzato da anni, mi disse, sembra quasi un catafalco per musica morta. Io non so se ci posso utilizzare lo stesso tipo di definizione, però questo cos'è? Una fontana? È una fontana, ma una fontana con il cappotto a questo punto, perché è stata coperta, non era funzionante, gli hanno messo il telo, forse per proteggerla dal freddo? Mi domando. Insomma, viene difficile capire perché, però quello che sicuramente emerge dalla puntata di questa sera è che esiste un problema a Fontane ad Arezzo. Per carità, ripeto, per me facciamo di Arezzo la città delle fontane, però facciamole funzionare e magari teniamole come dovrebbero essere tenute. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius.